Preparare la nave alla battaglia Versaglio individuato Incrociatore leggero 3, 6, 0 Tutto a tribordo Timone, a mezza nave Caccia a torpe di nere Avanti, 10.000 metri Posti di combattimento Nemico avvistato Incendio avvistato Una nave nemica Nemico colpito Incrociatore leggero A bordo 9.000 metri Controllo dei danni Alle squadre antincegno Controllo degli scompartimenti In fiamme Nemico colpito Timone, tirare tutto a tribordo Tutto a tribordo Sì signore Timone, a mezza nave Timone, a mezza nave Sì signore Abbiamo subito danni Abbiamo subito danni Abbiamo subito danni Nassi Quanto sei colpita Siamo stati colpiti Sotto la linea di gianneggiamento Motori Motori, addresso totale Timone a tribordo Sì signore Billere a tribordo Controllo dei danni per riparazione delle parti Ripristinare l'integrità della tenuta stagna Sotto la linea di gianneggiamento Sotto la linea di gianneggiamento Sotto la linea di gianneggiamento Controllo dei danni per riparazione delle parti Svuotare i compartimenti allagati Motori, arresto totale Ah, quasi colpito Timone a mezza nave Sì signore Sotto il resto Oh god, abbiamo subito Il nemico ha preso l'iniziativa Tutto a tribordo Timone, tutto a pavordo Sì signore Riparare le parti Iniziare il controllo dei danni Quasi colpito Quasi colpito Timone a tribordo Gancia torpedigliere 20 10 Quasi colpito Ah ah Molto Sotto Sotto la linea di gianneggiamento Controllo dei danni per riparazione Abbiamo subito Delle parti E' possibile Vuotare gli scompartimenti allagati Conso di retto Timone a tribordo! Sì signore! Vilari a tribordo! Versaglio individuato! Incrociatore pesante! Pronta! 8000 metri! Versaglio colpito! Oh no! Abbiamo subito dati! Accontrolato il pello! Abbiamo subito dati! Credici! Quasi colpito! Caccia colpiliere! Aventi! 8000 metri! Attenzione al riquadro designato! Assoluto l'attivato! Abbiamo subito dati critici! Versaglio colpito! Versaglio! 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 Versaglio dei danni alle squadre anti-incendio! Controllo degli scompartimenti in fiamme! Nemico colpito! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Svuotare gli scompartimenti allagati! Mostrazione di riparazione! Abbiamo subito dati critici! Sì! Il nemico si inclina! E perde velocità! Incrociatore leggero! A bordo! 8000 metri! Nemico colpito! Diretto! Mostrazione di riparazione! Abbiamo subito dati critici! Colpo diretto! Riparare le parti! Iniziare il controllo dei danni! Versaglio individuato! Incrociatore leggero! Bussola! 360! 4000 metri! Colpo diretto! Caccia torpito! Avanti! 6000 metri! Dani critici! La parte dell'arricciata! C'è! Versaglio! Colpito! Nemico colpito! Postazione di riparazione! Abbiamo subito dati critici! Colpo diretto! Nave l'arricciata! Nave l'armica in piappe! Incrociatore leggero! A bordo! 9000 metri! Versaglio! Distrutto! Dani critici! Da parte danneggiata! Andi critici! La parte danneggiata sta peccendere! Timone a tribordo! Sì signor, tirare al riporto. Caccia a torpediniere. Avanti, 5.000 metri. Postazione di riporto. Abbiamo studito danni critici. Bersaglio individuato. Caccia a torpediniere. 4 a 0. 9.000 metri. Motori, arresto totale. 6.000 metri. 6.000 metri. 6.000 metri. 9.000 metri. individuato, caccia torpediniere bussola, 4, 0, 9 caccia torpediniere, a bordo 6.000 metri il nemico ha preso l'inocentrismo motori, arresto totale vittano siamo stati colpiti sotto la linea di galleggiamento ostrazioni di margine abbiamo subito tanti critici nemico bersaglio individuato caccia torpediniere 4, 0, 8.000 metri hanno avuto l'equipaggio danni critici a motore navi siamo stati colpiti sotto la linea di galleggiamento hanno avuto l'equipaggio galleggiamento critico quasi colpito l'equipaggio abbandonare la nave scrivone, virare tutto a bordo tutto a bordo caccia torpediniere avanti 9.000 metri fuori di combattimento nemico avvistato colpo diretto a bordo sì signore vivare a bordo nemico colpito bersaglio individuato caccia torpediniere 3, 0, 8.000 metri quasi colpito lo vedete il nemico stavio a bordo sì signore vivare a bordo bersaglio individuato caccia torpediniere bussola 3, 6, 0 8.000 metri risaglio colpito timone a bordo sì signore ingrociatore leggero a tribordo dove quasi colpito nemico colpito quasi colpito nemico colpito caccia torpediniere 2, 9.000 metri 2, 9.000 metri bersaglio colpito versaglio colpito quasi colpito quasi colpito 4-0. 12.000 metri. Bersaglio colpito. Motori, arresto totale. Bersaglio individuato. Caccia torpediniere. 4-0. Nave militare. A tribordo. 12.000 metri. Qualcuno lo attacchi. Caccia torpediniere. 9.000 metri. Nemico ha distrutto. Bersaglio individuato. Nave militare. Bussola. 4-0. 12.000 metri. Così abbiamo letto di perdito. Così abbiamo letto di perdito. Caccia torpediniere. Caccia torpediniere. A tribordo. 8.000 metri. Bersaglio distrutto. motori a massima velocità. Quasi colpito. Bersaglio individuato. Bersaglio individuato. 4-0. 8.000 metri. Motori arresto totale. Bersaglio individuato. Bersaglio individuato. Nave militare. 12.000 metri. Stiamo dominando il nemico. Caccia torpediniere. Avanti. 6.000 metri. Quasi colpito. Colpo diretto. Caccia torpediniere. A tribordo. 11.000 metri. Nemico distrutto. Motori a massima velocità. Bersaglio individuato. Caccia torpediniere. 4-0. 10.000 metri. Pimone a tribordo. Sì signore. Mirare a tribordo. Qualcuno lo attacchi. Caccia torpediniere. A tribordo. 11.000 metri. Quasi colpito. Colpo diretto. Tivone a tribordo. Sì signore. Mirare a tribordo. Motori a tutta velocità. Quasi colpito. Genito a colpito. Caccia torpediniere. Caccia torpediniere. Motori. Arresto totale. Il nemico si... Verde velocità. Caccia torpediniere. A tribordo. 12.000 metri. Taglio individuato. Caccia torpediniere. Bussola. Un nemico si colpito. Un nemico si colpito. Nemico confito. Un nemico si colpito. Affondata. Ha ha. Corpito. Versaglio individuato. Caccia torpediniere. 10.000 metri! Abbassino! Inclusivatore leggero! Avanti! 6.000 metri! Abbiamo sconfitta! Ah! Quale sconfitta! Sì, sì! Motori, arresto totale! Nemico colpito! Avanti! 5.000 metri! Controllo dei danni per preparazione delle parti! Svuotare gli scompartimenti allagati! Timone a trifondo! Nemico colpito! Versaglio individuato! Caccia torpediniere! Zero! 11.000 metri! Versaglio individuato! Caccia torpediniere! Motta! Zai! 10.000 metri! Qualcuno! Abbiamo sconfitta! Caccia torpediniere! A trifordo! 10.000 metri! Motori indietro tutta! Versaglio forti! Versaglio forti! Motori, arresto totale! Sì! Versaglio forti! Versaglio forti! controllo dei danni per riparazione delle parti vuotare gli scompartimenti allagati potori a massima velocità in cielo, a tribordo, 9.000 metri bersaglio individuato potori all'interno 4.0, 10.000 metri pivone a tribordo si signore diretti bersaglio colpito motori azzurri perraggio individuato non compaginiere potola 10.000 metri contro diretto incrociatore leggero controllo dei danni per riparazione delle parti vuotare gli scompartimenti allagati bersaglio colpito bersaglio colpito bersaglio individuato caccia colpito controllo dei danni per riparazione delle parti vuotare gli scompartimenti allagati controllo dei danni per riparazione delle parti bersaglio individuato bersaglio individuato caccia colpito risaglio individuato controllo dei danni alle parti controllo dei danni alle squadre antigeni controllo dei danni alle squadre antigeni controllo degli scompartimenti Controllo dei danni per riparazione delle fatti! Vuotare gli scompartimenti allagati! Fattori indietro tutta! Versaglio individuato! Caccia torpediniere! Busci! 10.000 metri! Timone a trimorno! Sì signore! Milano a trimorno! Riparare le fatti! Iniziare il controllo dei danni! Sì signore! Sì signore! Romano il carico! Salone! Aventi! Romano il carico! Salone! Aventi! Corso di evento! Motori a reti costale! Versaglio individuato! Con peinieri! Rossa! Sì signore! 10.000 metri! In genere a pistaccio! Sulla nave nemica! Sulla nave nemica! Assoluto l'antipagno! Abbiamo subito tanti! Riazzi! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Ripristinare l'integrità della tenuta staglia! Motori! Arresto totale! Controllo dei danni alle squadre antiche! Controllo degli scompartimenti in fiamme! Assoluto l'antipagno! Sullaона del fio! Sulla tornazione delle parti da buttali! Sulla TR